Camminare con Cristo avendo come riferimento tre luoghi spirituali descritti sia nei Vangeli che negli Atti degli Apostoli, nei quali Egli si manifesta e si rivela rinsaldando la nostra fede. Così il Papa nell'Omelia della Messa Mattutina a Santa Marta ha ripercorso i 40 giorni passati dal momento della resurrezione di Gesù fino alla sua ascensione. Primo luogo nella vita di un cristiano è la Galilea, dove Gesù ha incontrato i discepoli e li ha scelti. Secondo luogo il cielo a cui volgere lo sguardo, perché Cristo da lì ascolta ogni supplica. Terzo il mondo, questo a ribadito Bergoglio, è il posto privilegiato del cristiano per annunciare a tutti la parola di Dio. Memoria, preghiera e missione dunque per vivere una vita nella gioia che nessuno può togliere. Un cristiano deve muoversi in queste tre dimensioni e chiedere la grazia della memoria, che non mi dimentichi del momento che tu mi hai eletto, che non mi dimentichi dei momenti che ci siamo incontrati, dire al Signore. Poi pregare, guardare il cielo, perché Lui è per intercedere lì. Lui intercede per noi. E poi andare in missione. missione. Cioè, non vuol dire che tutti devono andare all'estero. Andare in missione è vivere e dare testimonianza del Vangelo e fare sapere alla gente come Gesù. E questo con la testimonianza e con la parola. Perché se io dico come Gesù e come la vita cristiana è vivo come un pagano, quello non serve. La missione non va. 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 Grazie a tutti.